Musica Da Giuseppe Verdi a Puccini passando per gli omaggi musicali a Domenico Modugno e Degno Morricone in occasione della festa della musica la fanfara del comando scuola aeronautica militare terza regione aerea si esibita sul sagrato della cattedrale di San Sabino di Bari in un variegato itinerario musicale che ha attraversato secoli di musica dalla classica alla pop La fanfara del comando scuola e dell'aeronautica militare fu costituita nel 1984 diretta dal maestro primo luogotenente Nicola Cutugno e composta da 30 musicisti, sargenti e graduati opportunamente selezionati tra i migliori diplomati e conservatori di musica Anche per il 2024 il Ministero della Difesa ha accettato l'invito dell'Associazione Italiana per la promozione della festa della musica che organizza l'appuntamento per conto del Ministero della Cultura allo scopo di promuovere a livello nazionale la festa della musica con il coinvolgimento di complessi militari del di Castero L'aeronautica e la Puglia sono intimamente legate da 101 anni quindi la musica è un altro veicolo di comunicazione ed è anche un messaggio di vicinanza alla Puglia e a Bari